Stiamo lavorando in maniera molto buona per metterli in luce il più possibile. Sono piloti che sicuramente hanno dei numeri non indifferenti. Buzz Lammers nella KZ2 della VSK Series, Tyler Duck nella Formula Renault 2000 tricolore, Stefano Scamizakis nel campionato italiano di Formula 3 e ora Alessandro Kuzkin nella International Formula Master. È un filotto senza precedenti quello messo a segno dall'Intrepid Driver Program in questo scorcio di stagione. Quattro successi incredibili che lanciano nel limbo degli Junior Program il progetto di Mirko Sguersoni e della sua Intrepid, dimostrando di saper vincere dal karting alla Formula Master, passando per la Formula Renault e la Formula 3, dopo le soddisfazioni raccolte anche dai suoi ex allievi, Algelsuari e Molina, in World Series 3.5. Insomma, un poker di eventi centrati al primo colpo, capace di catturare stima e attenzione da ogni angolo del globo, perfino nella massima serie, dove un certo Sebastian Buemi sta facendo arrossire un veterano come il francese Bourdais alla Toro Rosso. Ripercorriamo allora, con l'ausilio di queste splendide immagini mixate in musica, il momento d'oro dei boys dell'Intrepid Driver Program in questo inizio di stagione, con un ping pong a ritroso fra i paddock delle categorie sopraccitate, sui circuiti di Sarno, Monza, Adria e Po. Ripercorriamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Fra i quattro principali alfieri intrepidi, in monoposto, la novità è senza ombra di dubbio il greco Kamisakis. La lente di stop and go si posa dunque sul driver ellenico per scoprire o riscoprire l'exploit di Adria nella Formula 3 italiana e soprattutto le ambizioni e retroscena più piccanti della new entry nero-arancio nella sezione formula della casa di Salizzole. Con il signor Mirko Scezioni abbiamo una grande storia dal kart. La scorsa anno abbiamo parlato per questo grande step sulla Formula 3. Abbiamo trovato una soluzione di andare insieme con l'Interpeed Driving Program. Sono molto felice che abbiamo trovato questa collaborazione così. Sono piacere percorrere qui in Italia su questo grande campionato del Formula 3. Qual è l'ambizione per questo tuo primo campionato nella serie tricolore? Questo è il nostro target di finire sui primi tre. Posso essere il primo rookie di quest'anno. Ho un grande supporto dal RC. È una buona squadra con grande storia sulla Formula. Penso che abbiamo la combination per andare avanti sull'ingrip. Passiamo la parola ora al dirigente dell'Interpeed Driving Program. Siamo con Francesco Rodighiero in sostituzione di patron Mirko Scezioni. Assente perché presente al Gran Premio di Formula 1 di Barcellona. Sì, noi siamo orgogliosi oggi di debuttare in Formula 3 perché l'Interpeed Driving Program è nato nel 2008. È nato per fare un percorso certo dei piloti che dai kart arriveranno su delle categorie idonee a loro. Con il nostro progetto possiamo arrivare in Formula 1. Interpeed Driving Program è una splendida realtà.